Musica Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. In molti ci avete scritto per problemi con i contratti d'affitto. Abbiamo girato le domande all'Avvocato Bortolotti. Uno dei contratti di più frequente presentazione e una delle situazioni più comuni di occupazione di un immobile è senz'altro quello della locazione abitativa, comunemente detta affitto. La locazione abitativa è un contratto che più delle volte, interessando una grandissima quantità di persone e di famiglie, viene forse stipulato con, non dico con leggerezza, ma senza forse pensare la dovuta attenzione a tutte quelle che sono le parti, le clausole contrattuali, che in definitiva possono rivelarsi anche molto importanti nel corso della vita del contratto di locazione stesso. Vediamo con la consueta praticità e rapidità quelli che sono gli aspetti più importanti e sui quali occorre focalizzare maggiormente l'attenzione, riferimento a questa modalità contrattuale. Focalizziamo l'attenzione su quella che è la modalità di locazione più comune, più conosciuta, che è quella cosiddetta a canone libero, la famosa 4 più 4, perché ricordiamo che esistono vari tipi di locazione abitativa, quella a canone concordato che si fa attraverso gli accordi fra le categorie di inquilini e proprietari, che è un contratto particolare, esistono poi le locazioni chiamate totalmente libere, libere da qualsiasi vincolo particolare di legge, che sono quelle che riguardano gli immobili affittati o locati per ragioni turistiche o le pertinenze degli immobili come i box, le cantine, i posti auto. Ma come detto, concentriamoci sulla locazione a canone libero che riguarda la maggior parte delle persone. Allora, la locazione a canone libero presenta soltanto tre tipi di vincoli che occorre tenere presenti. Quelli riguardo la durata minima del contratto, quelli riguardo le modalità di rinnovazione e le modalità di recesso. Per il resto, le parti sono libere di concordare questo contratto di locazione come meglio credono. Per quanto riguarda la durata minima, ricordiamo che appunto la legge, la 431 del 98, che regola la materia, impone una durata non inferiore ai 4 anni, che poi sono rinnovabili automaticamente, salvo la disdetta che il proprietario deve dare con le modalità e nei casi tassativamente previsti dalla legge all'articolo 3. Ricordiamo quelli più importanti, ossia se il proprietario alla scadenza dei primi 4 anni intende abitare personalmente o con la sua famiglia l'immobile, allora in quel caso può dare la disdetta nei tempi previsti dalla legge all'inquilino, ossia almeno 6 mesi prima della scadenza dei primi 4 anni. Se vuole vendere l'immobile e non ha altri immobili di proprietà nel comune, salvo quello dove lui abita con la sua famiglia, e se invece l'immobile deve essere totalmente ricostruito o ristrutturato. Solo in questi tassativi casi, al termine dei primi 4 anni, il proprietario ha il diritto di recedere dal contratto di locazione. Ricordiamo che invece il conduttore, ossia l'inquilino, ha il diritto di recedere in ogni momento per gravi motivi, dando un preavviso di almeno 6 mesi, ossia dovrà comunque pagare i 6 mesi di preavviso che concede al proprietario. Dicevamo poi per quanto riguarda le modalità di rinnovazione, molto importante è questo, perché quando scadono gli 8 anni di contratto, se il proprietario o l'inquilino vorranno rinnovare il contratto con canone differenti, quindi con termini differenti, con modalità differenti, dovranno entro i 6 mesi prima della scadenza dei secondi 4 anni, quindi degli 8 anni, dare una specifica comunicazione l'uno all'altro. L'altra parte che la riceve dovrà rispondere entro 60 giorni, se non lo farà il contratto si intenderà risolto. Allo stesso modo, attenzione, perché se nessuno dei due dice nulla, allora il contratto si intenderà rinnovato per un ugual periodo, quindi 4 più 4, alle stesse condizioni precedenti. Un altro aspetto molto importante che occorre tenere presente è che non esistono i contratti di locazione fatti a voce, non esistono contratti di locazione fatti con una stretta di mano o con un foglietto volante. La legge impone la forma scritta, appena di nullità, e la registrazione entro 30 giorni dalla firma del contratto a fini fiscali. Registrazione cosa vuol dire? Andare all'agenzia delle entrate e dire che voi siete in affitto e che dovete appunto pagare un'imposta di registro. Questo cosa vuol dire? Che se noi non affitteremo, loccheremo il nostro immobile con un contratto scritto, avremo dei grossi problemi in sede di eventuale sfratto, perché non riusciremo a provare l'esistenza del contratto di locazione. E soprattutto avremo delle ripercussioni di carattere fiscale, perché l'agenzia delle entrate in maniera retroattiva ci verrà a chiedere quello che non abbiamo pagato, non registrando il contratto. Un'ultima attenzione, fare molta attenzione a quando si visita l'immobile, prima di sottoscrivere il contratto di locazione, e mi rivolgo soprattutto ai conduttori, cioè agli inquilini. Controllare che sia tutto a posto, che gli impianti siano a posto, siano funzionanti, fare un verbale elencando tutti i mobili elettrodomestici che si trovano nell'appartamento, perché un domani, visto che tutti i contratti di locazione riportano la formula cosiddetta visto e piaciuto, non si potrà accampare la scusa che c'è qualcosa che non funziona nell'appartamento, o non è di nostro gradimento, e smettere di pagare il canone, perché questo sarà sicuramente passibile di procedura di sfratto. Ricordiamo infatti che per i contratti di locazione abitativa basta non pagare un solo canone, perché il proprietario possa procedere con lo sfratto per morosità. Rimborso Tarsu, chi può chiederlo e quando? Sentiamo l'Avvocato Pollastro. Buonasera a tutti, voglio chiacchierare stasera di un problema sul quale molti discutono, molti parlano e anche qui si sono poi, rimbalzano anche informazioni non esatte. Sto parlando della questione del rimborso cosiddetta della tassa rifiuti, la vecchia Tia, poi della Tarsu, o comunque i vari comuni l'hanno chiamata. Vediamo di essere chiari, vediamo di essere chiari. Non stiamo parlando, non esiste un problema di rimborso della tassa, ma esiste un problema di rimborso dell'IVA pagata sulla tassa, in quanto molti comuni d'Italia hanno applicato, nel momento del passaggio al nuovo sistema di pagamento, diciamo, dell'imposta sui rifiuti, hanno applicato l'IVA, l'IVA al 10%. Su questo problema, quindi, non stiamo parlando di rimborso integrale, ribadisco, stiamo parlando del rimborso dell'IVA del 10%, che però, attenzione, l'IVA al 10% se uno ha una tassa rifiuti di 250 euro l'anno, sono sempre i suoi 25 euro l'anno che hanno il loro peso, anche perché ripetuto tutti gli anni ha il suo peso. Il problema non è un errore o un malizioso comportamento del comune, perché lì il problema dell'applicazione o meno dell'IVA è stato un problematica assolutamente e ripetutamente discursi, su quale gli avvocati e i giudici si sono accapigliati, nel senso che, a giudizio dello Stato, in modo particolare da parte dell'Agenzia delle Entrate, vi era un orientamento chiaro, netto, secco, che si dovesse applicare l'IVA anche sulla tassa rifiuti. La Cassazione, i giudici, a livello di, al massimo lì, organo, diciamo, dell'ordinamento giudiziario, quindi la Cassazione, hanno ormai ribadito la propria ormai conforme giurisprudenza, che ormai appare, io mi permetto di dire, monolitica, nel senso di dire che non è un servizio, ma essendo una tassa, sulle tasse non c'è IVA e quindi il cittadino non doveva pagare l'IVA su quella tassa, su quel contributo, che quindi non è il costo di un servizio, ma è una tasse, e ha diritto oggi al rimborso. Voi mi direte, eh ma il Comune allora a questo punto, quando se ne accorge, deve restituirli. Certo, da un punto di vista teorico, la pubblica amministrazione, quando si accorge che c'è un errore nel proprio comportamento, non solo avrebbe il diritto, ha il diritto, ma avrebbe in qualche modo anche il dovere di autocorreggersi attraverso un'operazione che si chiama autotutela, cioè in buona sostanza la pubblica amministrazione dovrebbe intervenire, e sto sentendo che alcuni comuni, anche comuni importanti, stanno ragionando di intervenire senza che il cittadino chieda il rimborso dell'IVA, cioè in buona sostanza, abbonando, restituendo questa IVA non dovuta. Se però il Comune non opera o non interviene in questo modo, il cittadino deve fare una esplicita domanda. Attenzione, ci sono queste, il diritto al rimborso, si prescrive in dieci anni, da oggi indietro dieci anni, e dato che il problema della TIA Tarso è partito al 2009, poi dipende dai vari comuni, però diciamo 2009-2010, questo vuol dire che per non perdere i primi anni bisogna muoversi con decorosa rapidità, cioè stiamo parlando di uno o due anni, non è che stiamo parlando di due giorni o due settimane, però la cosa non è che ne possiamo parlare fra 15 anni, perché sennò i diritti si perdono. Cosa deve fare il cittadino? Una cosa molto semplice, la prima cosa è informarsi se effettivamente l'IVA è stata richiesta dal Comune ed è stata pagata, cioè nel senso che se il Comune, in cui chiunque di voi abita, non ha chiesto l'IVA, comportandosi in maniera assolutamente corretta, anticipando le posizioni della Cassazione già in passato, è chiaro che non gli si può chiedere in rimborso nulla. Se invece l'operazione è stata fatta, il mio consiglio è di scartabellare nelle proprie cassetti, recuperare le proprie bollettini di pagamento e fare una domanda. Cosa vuol dire fare una domanda? La domanda è molto semplice, vuol dire scrivere in buona sostanza chi si è e dove si abita, che su questo sono state pagate quella tassazione, quell'IVA si chiede il rimborso, allegando la fotocopia dei bollettini. Facciamo al più semplice, il consiglio è di andare in comune, molti comuni addirittura hanno preparato già loro dei moduli, o eventualmente anche andare presso un'associazione di consumatori, un'organizzazione sindacale, un patronato che faccia questo servizio. Oppure uno se lo fa da solo perché sono quattro righe da scrivere. Mi permetto, spero che nessuno si offenda, di non andare da un avvocato per fare una cosa di questo tipo. Gli avvocati, giustamente, dipendono la mia categoria, vanno compensati e credo che, come dire, il gioco non va alla candela, cioè non conviene andare a investire dei soldi per un'operazione ormai molto, come dire, anche ritualizzata e in qualche modo sulla quale i comuni sanno benissimo di cosa si sta parlando e che tipo di domanda sia. Grazie. Per oggi abbiamo terminato. Vi ricordo la nostra mail. Grazie.